Noi abbiamo fatto una moneta senza Stato. Noi abbiamo avuto la faustiana pretesa di riuscire a gestire una moneta senza metterla sotto l'ombrello di un potere caratterizzato da quei mezzi e da quei modi che sono propri dello Stato e che avevano sempre fatto ritenere che fossero le ragioni della forza e della credibilità che ciascuna moneta ha. Eravamo pazzi? Qualche esperimento nella storia c'era stato di monete senza Stato, di monete comuni, di unioni monetarie, ma per la verità non erano stati molto fortunati. Avete sentito? Giuliano Amato, dopo quasi 20 anni dall'introduzione dell'euro, vorrebbe farci credere che hanno sbagliato. È stato un errore. Hanno sbagliato a concepire una banca centrale con queste caratteristiche e purtroppo è venuta la crisi. Insomma, lui lo dice, gli americani ve l'avevano detto, ma l'abbiamo fatto lo stesso. Beh, questa tesi è assolutamente irrecevibile. È chiaro ed evidente che si è voluto agire così perché una banca centrale non funzionante non era in grado di sostenere l'economia dei singoli stati. È evidente quindi che bisogna spiegare, soprattutto ai cittadini, quello che significa avere una banca centrale prestatrice illimitata di ultime istanze. Perché questo concetto è fondamentale ed è un punto chiave del programma di Casa Pound. Una banca centrale è l'essenza di uno Stato. Addirittura senza la sovranità monetaria lo Stato non è più tale. Cioè non c'è lo Stato. Non si può chiamare Stato un organismo che non ha sovranità monetaria. Lo Stato esiste quando ha i suoi tre elementi fondanti. Popolo, territorio e appunto sovranità. Cioè il potere d'imperio di quel popolo sul suo territorio. Evidente che la sovranità monetaria è al centro di questo tipo di elemento. Perché è la facoltà letteralmente di battere moneta. Ovvero di mettere nell'economia la quantità di moneta necessaria al suo normale funzionamento. Quanta moneta serve in un'economia? Né troppa, ovviamente, né troppo poca. Senza una banca centrale prestatrice illimitata di ultime istanze, ci siamo ridotti ad averne sempre troppo poca. E avere troppo poca moneta è diventato uno strumento di ricatto. Ovvio che la banca centrale, che torna ad essere quello che in Italia, per intenderci, abbiamo avuto fino al 1981, il famoso divorzio tesoro Banca Italia, è un aspetto centrale. Perché a quel punto l'Italia potrà fare le politiche che desidera. Cioè, se il Parlamento vorrà fare politiche espansive, avrà una banca centrale obbligata, perché è un organo dello Stato, a fare ciò che la politica vuole. E questo è assolutamente fondamentale per ridare democrazia effettiva in questo paese. Noi dobbiamo respingere, cancellare completamente la dottrina dell'indipendenza della banca centrale. Quindi la banca centrale non può decidere di farti fallire domani mattina, come avviene oggi con l'Unione Europea, perché intende non acquistare i tuoi titoli di Stato o intende non battere nuova moneta. Non può funzionare così. Gli Stati Uniti hanno una banca centrale per statrice illimitata di ultime istanze. Il Giappone ha una banca centrale per statrice illimitata di ultime istanze e ha un rapporto debito-pil doppio rispetto a quello dell'Italia. E non ha nessun tipo di problema. Perché? Perché chiaramente si finanzia sovranamente. La banca centrale poi può decidere di acquistare i tuoi titoli dandoti ovviamente moneta e quindi favorirli alla spesa pubblica e alle politiche espansive. Poi non deve mica per forza metterli sul mercato questi titoli. Se decidesse di distruggerli, semplicemente si ridurrebbe la montare complessivo di debito pubblico. Per cui capite che è fondamentale per gestire una nazione e le sue leve economiche, macroeconomiche, ordinari, avere una banca centrale nel controllo della democrazia. È un aspetto centrale e fondamentale peraltro previsto nel modello economico-costituzionale che Casa Pound richiama in toto nel suo programma. L'articolo 47. La Repubblica deve disciplinare, coordinare e controllare il credito. Quindi è chiaro che gli strumenti monetari devono essere nel possesso delle democrazie. Peraltro capite che a livello europeo le norme hanno un impatto palesemente criminale. Cioè è impossibile, ripeto, pensare quello che dice Amato che è stato un errore. Si è codificata nei trattati europei una banca centrale che ha il divieto di sostenere le politiche degli stati. Deve solo occuparsi della stabilità dei prezzi, elemento che interessa solo ed esclusivamente ai creditori, perché sono solo loro che dalla stabilità dei prezzi conservano soprattutto delle posizioni di potere politico. L'inflazione li obbligherebbe a utilizzare i loro soldi, nell'economia reale li toglierebbe quel potere politico di ricattare gli stati. Un esempio l'abbiamo visto nel 2011, quando hanno voluto togliere di mezzo un governo Berlusconi che in quel momento e solo in allora ventilava un'ipotesi di uscire dall'euro, beh, lo spread fu fatto schizzare attraverso i movimenti di capitale che sono molto semplici per chi ha un assetto di questo tipo, cioè nel momento che c'è un assetto giuridico di questo tipo sono loro a dominarci. E i trattati in più hanno codificato poi quell'indipendenza della banca dalla politica, cioè una banca che addirittura non può prendere neppure consigli dal Parlamento europeo né dai parlamenti nazionali. Cioè è evidente che, ripeto, quello che dice Amato che questo è stato un errore è assolutamente insensato, questo è stato un disegno di natura eversiva inserito nei trattati come cavallo di troia per distruggere le nostre democrazie. Per cui un programma chiaro, quello di Casa Pound, riprendiamoci il controllo totale della moneta attraverso una banca centrale che deve essere pubblica, nazionale, sotto il totale controllo della democrazia, sotto il controllo del Parlamento, sotto il controllo del popolo. Grazie a tutti.